Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione Confronti Incontri riparte nuova stagione il primo incontro è con il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli buonasera e benvenuto buonasera a tutti dunque ha un anno un'occasione anche per tracciare un bilancio il primo anno di mandato come sindaco della città di Macerata che anno è stato per lei? è stato un anno che dire faticoso, fantastico con tante cose da fare quindi io sono un uomo del fare e quindi mi ci trovo in maniera positiva inizio la mattina presto finisco la sera tardi faccio tre miliardi di cose differenti il primo anno è sempre difficile perché devi entrare in comune devi fare partecipare tutti i dipendenti comuni con te per fare progetti è molto difficile perché abbiamo anche subito una pandemia però che dire sono contento di fare il sindaco entriamo con i singoli assessorati per temi per cercare di fare un bilancio di dire quali sono state le cose principali io inizierei dalla cultura per entrare anche un po' nel dibattito di questi giorni sulle nomine anche dello sferisterio qual è il suo bilancio un anno anche per la stagione vissuta tra le difficoltà del covid per entrare poi nella scelta dei nomi allora noi abbiamo in comune una giunta fatta di nove assessori sono nove uomini e donne che lavorano moltissimo abbiamo fatto insieme tanti progetti io sono uno un sindaco non sono un accentratore ma lavoro con loro quindi do parecchie delle a loro di fare tanti progetti e insieme ne abbiamo fatti tanti certo dopo un anno sembra non aver fatto e a me mi sembra che non ho fatto poco in verità se andiamo e facciamo un rendiconto di tutto quello che abbiamo fatto le cose sono state fatte tante ne abbiamo affrontate tante però io le sto affrontando ogni giorno ieri stavo in regione vado ogni settimana una o due volte in regione stiamo facendo progetti su tutti i settori di competenza dei miei assessori per portare soldi a macerata per catturare questi soldi che arrivano dall'Europa se non catturiamo questi soldi con i progetti non faremo tante cose poi l'obiettivo di un imprenditore come me è di fare anche tanti progetti sì, è importante mettere l'asfalto su una strada tagliare le piante sistemare un po' mettere telecamere per la sicurezza è importante tutto ma anche è importante prendere questi soldi per fare progetti che portano ricchezza per la città un domani perché oggi abbiamo questi soldi e un domani dobbiamo campare con i progetti che abbiamo fatto e aver seminato delle ricchezze che ci daranno dei soldi per proseguire nei prossimi anni quindi considera comunque anche un buon lavoro di squadra che è stato svolto ma guarda i miei assessori stanno lavorando tantissimi su tutti i vari settori e loro hanno le dediche per andare avanti e mi riferiscono a quello che stiamo facendo insieme dove io posso dargli una mano gli do una mano però gli do anche carta bianca di fare tante cose torniamo dunque alla cultura la questione sferisterio polemiche c'è stato il contratto e scadenza di Barbara Minghetti direttore artistico arrivata nel 2017 per sostituire Francesco Micheli dice l'esperienza per me è finita con Macerata come vi siete lasciati? ma guarda innanzitutto io ho avuto sempre un rapporto con la Minghetti oltre che professionale di lavoro nell'ultimo anno diciamo ma anche prima ci siamo sempre diciamo stimati anche voluti bene perché è una brava persona una brava professionista e con lei io ho lavorato sempre bene anche quest'anno ma anche prima quindi una separazione consensuale un po' è stata in amicizia perché di stima perché si ritornerà in qualsiasi maniera a fare qualcosa a Macerata per me avrà sempre la stima e Macerata io stimo la Minghetti quindi ci siamo lasciati in una maniera non ci siamo abbracciati per telefono ma se no ci abbracciavamo tranquillamente con il covid bisogna fare attenzione però a parte gli scherzi però la questione all'interno anche dell'associazione Sferi Stereo lei presidente vice pettinari i consiglieri dell'ECD ala il nostro riserio ha un statuto vecchissimo dobbiamo rimetterci in mano anche sullo statuto ecco degli obiettivi è uno dei obiettivi obiettivi che faremo quest'anno con karma la Minghetti non farà e stiamo trovando e abbiamo già una rossa da decidere direttori artistici che hanno un nome nel circuito artistico italiano dei teatri quindi io ho parecchi nomi stiamo definendo chi fare mi stanno attaccando che è tardi è tardi ma guarda la fretta non va bene bisogna scegliere bene e scegliere una persona opportuna per Macerata a parte la direzione artistica rimarrà invece il sovrintendente Giorno Messi stiamo tutto vedendo in questi giorni stiamo tutto vedendo sono ore decisive quindi voliamoci bene andiamo a fare una cosa fatta bene per questa città senza attacchi strumentari che non c'ha senso molto idealistica questa visione ma sì ma perché Macerata e lo Sferisterio è una cosa molto importante ma non solo per Macerata per tutto il nostro territorio e per tutta Italia quindi scegliamo delle persone che porteranno questo Sferisterio in alto come è stato quest'anno quest'anno abbiamo fatto una stagione bellissima quindi onore alla Minghetti onore al sovrintendente onore a tutti alle direttori musicali a tutti quelli che hanno partecipato a far sì che lo Sferisterio sia stata una stagione bellissima anche quest'anno diciamo che il progetto che anche la stessa Minghetti questa direzione artistica ha postato avanti è stato anche un progetto di grande attenzione verso i più piccoli ma quello è stato bellissimo delle scuole abbiamo visto anche l'apertura con aprire il museo tanti bambini allo Sferisterio famiglie ma l'avete visto no? vedere sul palco tutti quei bambini con la famiglia è stata una cosa meravigliosa apposta che il rapporto con la Minghetti potrebbe continuare su tanti altri discorsi non è che è finito vediamo io qual è la direzione al di là del nome del direttore il progetto il progetto dei bambini dobbiamo continuarlo di sicuro ma guardi che io non butto via mai quello che è stato fatto prima se è stato fatto bene perché arrivo su io e cambio tutto non è nel mio DNA quindi un nome e anche per il direttore musicale sarà un'unica figura? ma guardi che tante volte il direttore artistico musicale allora io vengo da un mondo imprenditoriale su un altro settore non è che so un artista mi occupo di musei mi occupo di lirica roba e genere ma mi sto facendo una cultura parlare un'idea però già l'associazione un'idea se noi troviamo un direttore artistico che può fare anche il direttore musicale ben venga non serve un direttore musicale se lo fa il direttore artistico quindi rimarrà con l'attenzione sul territorio speristerio di tutti territorio anche presenza ma noi abbiamo portato tante persone abbiamo portato tante persone e stiamo avvicinando anche tanti imprenditori della zona anche grandi imprenditori si stanno avvicinando a Macerata alla mia giunta al sindaco e alla cultura di Macerata e io è quello che sto facendo quello sono capace e capacissimo a livello culturale anche riprendono vita anche altri contenitori tipo anche il teatro Laura Rossi tutto per il covid lei si è trovato anche in questo anno a ripartire forse tra un po' di tempo vi farò conoscere un progetto che ho nel cassetto che vi cambiamo Macerata perché i contenitori ce li abbiamo ma sono pochi i contenitori abbiamo Laura Rossi il teatro abbiamo il Bonaccorsi ma quanti altri contenitori abbiamo Macerata mancano contenitori quelli che abbiamo quest'anno è stato un successo perché parliamo di più di 20.000 persone che entrate in Bonaccorsi più di 20.000 persone un periodo di covid un periodo così difficile e altre tante persone sono arrivate allo Sferisterio ma sono arrivate persone da tutta Italia anche imprenditori abbiamo fatto anche quella manifestazione che abbiamo fatto con Bocelli quella sera è arrivata anche tante altre persone imprenditori italiani che tanti non conoscevano lo Sferisterio quindi lo Sferisterio bisogna sempre con i piedi per terra chiudere un bilancio e quest'anno chiuderemo il bilancio e anche lì chiudere il bilancio ci sono dei fondi che arrivano anche dallo Stato che l'hanno promessi devono arrivare se arrivano questi soldi che arrivano promessi che non sono tantissimi però sono importanti chiuderemo anche un bel bilancio di una stagione fatta con il 50% di presenza perché noi è un Sferisterio che ha 2.500 posti circa se poi pertenzioniamo un po' meglio anche si dì roba del genere voglio dire fare 1.100-1.150 persone vuol dire crollare sugli incassi di parecchi soldi quindi abbiamo trovato soldi sì recovery quello che ti pare però abbiamo chiuso la stagione anche inattivo e chiudere la stagione inattiva su un Covid non è facile gli altri quadri che danno in Italia non è tutti così da quello che sento un altro tema legato sempre alla cultura in questo primo anno il rapporto e anche tante iniziative con l'Università di Macerata con la Creme di Belleati come è stato? guardi io quando sono entrato vedevo questo un anno fa anche la presenza di Mattarella un anno fa sì di Mattarella quest'anno non ci è venuto perché è andato da un'altra parte perché quel giorno che volevamo invitarlo era il compleanno ma lo rinviteremo e Mattarella vabbè sta in scadenza però quest'anno scade però è un personaggio che va anche nelle città quindi è un buon presidente abbiamo e io lo rinviterò però voglio dire il rapporto con l'Università io quando sono entrato allora io sono imprenditore lo sapete io ho fatto sempre sinergia con tutti in 40 anni di attività posso andare a a fare il sindaco come un comune se non parlo con tutte le associazioni l'Università la Chiesa parlo con tutti perché qui ci siamo tutti in mezzo su questa città Macerata è una città piccola di 41.000 abitanti ma è una città completa dove c'era quest'ora la Prefettura i Carabinieri la Finanza i Vici del Fuoco l'Università la Chiesa tutti con fattigianato con fuoco commercio con l'industria se noi facciamo tutta una scuola insieme non andiamo e quindi sto parlando con tutti quindi il dialogo che si riapre con l'Università insomma che magari non era stato sempre il sindaco parla con tutti e vorrebbe parlare anche in maniera propositiva con l'opposizione ma pare che non gli si fa un altro aspetto che un po' ha caratterizzato fin da subito le sue scelte sulla città è stata sulla piazza la questione dei parcheggi in piazza dopo un anno di distanza cosa può dire sono sempre i pro e i contro è difficile su questo anche se lei vorrebbe mettere d'accordo tutti trovare l'unanimità no ma è logico che su alcune iniziative non puoi mettere d'accordo tutti questo lo capisco però è stata un'idea di rapire la piazza per dare un segnale di ripartenza è logico che io non voglio le macchine in piazza io ho un progetto ho già un progetto anche architettonico di quella piazza perché guardate adesso si rimetterà a posto e ci sono parecchi soldi della provincia per sistemare il palazzo della questura della prefettura quindi diventerà via le tapparelle via abbiamo visto il progetto è bellissimo ma c'è anche un progetto di riqualificazione di questa piazza di farla tornare una piazza elegante bella a valore della famiglia diciamo quindi non è che rimarranno in proseguo le macchine in piazza perché lì abbiamo un progetto di rampazzara con la scala mobile che entra dentro la questura e esce in piazza quando avremo quei parcheggi lì che con due minuti arriviamo in piazza è inutile lasciare le macchine in piazza ci sono dei progetti da portare avanti la riqualificazione di questa piazza che è magnifica bisogna farla ma vedi ho anche il palazzo io ho gli uffici che potrei ritornare negli uffici comunali che sono una sciccheria invece ho gli uffici che dopo il terremoto sono ancora lì perché il palazzo anche del comune bisogna rimettere a posto dal terremoto quindi abbiamo da riqualificare tutta quella piazza una volta riqualificata quella piazza le macchine scompariranno ma staranno lì sotto a due minuti tornando invece anche alle grandi opere e i progetti sulla città di Macerata ricordiamo quali sono al momento oltre parliamo poi a parte del piano dell'edilizia scolastica abbiamo parlato pochi giorni fa anche con Marchiori qui nei nostri studi sì al piano dell'edilizia scolastica sono arrivati questi tanti milioni per riqualificare le scuole che troviamo e fare anche delle scuole nuove scuole è logico che l'edificio sarà bello riqualifichiamo ma io vorrei riqualificare anche il contenuto dentro parlare con i professori e fare una scuola moderna perché la scuola deve essere moderna oggi quindi abbiamo tutte le caratteristiche perché se hai il contenitore puoi fare anche il contenuto dentro diciamo quindi questo progetto 21 milioni di euro 27 sono 27 milioni di euro fino al 2026 i lavori insomma sì ma sul polo scolastica però noi parliamo delle scuole del comune ma ci sono anche le scuole della provincia quindi il polo è l'università quindi dobbiamo lavorare con tutte le scuole e con l'università perché l'università pure sta portando avanti i progetti innovativi per l'università di Macerata che sono molto importanti perché sono del futuro la digitalizzazione i vari nuovi settori che vuole fare l'università di Macerata li condivido correttore e già le nuove scuole che lei ha trovato la zona ex casermette dove arriverà anche la piscina che impatto ha avuto sulla città abbiamo spostato un po' in periferia le scuole però sai io se fossi io farei un polo all'inglese un polo magnifico di scuole da tutti però questo è ci dobbiamo attrattare la piscina pure è una piscina che nascerà lì ormai il progetto c'era non butto via io quello che c'era prima non butto via niente non è che cerca di prendere il buono e poi se dobbiamo fare una piscina nuova una piscina competitiva una piscina per fare sport allora dovremo fare la piscina di 33 metri 32 metri con quello che le caratterizze del conivore quindi faremo il progetto c'è anche una piscina innovativa perché lo sport siamo la città dello sport nel 2022 la città europea esatto quali saranno le attese per questo appuntamento che poi lo spirito di questo riconoscimento è quello in realtà è così di migliorare impianti attività ma è quello di avere attività sportive a più livelli intese come benessere fisico per tutte le età per i vari livelli non solo per gli atleti divertici ma proprio per l'attività motoria nel senso anche del benessere dobbiamo distinguere lo sport dobbiamo non possiamo noi abbiamo provato di far venire il materica a macerata ci ho provato fino al venerdì sera anzi quando è andato via a Canille eravamo d'accordo ma ti avrebbe avuto questa domanda te l'anticipo guarda te l'anticipo perché bisogna fare le trasferenze il venerdì sera a Canille c'era un lancora nel biologico se chiamarsi materica macerata macerata materica poi successivamente chiamarsi maceratese eravamo arrivati all'accordo lui però si vede che è arrivata su Ancona Ancona rispetto a macerata è Ancona è il capologo di ragione quindi anche le persone che vanno allo stadio sono molto di più poi Ancona ha avuto la tradizione anche nelle classi superiori del pallone anche a varie dinamiche attalenate eravamo lasciati quasi d'accordo invece il sabato mi chiamava Canille e diceva io ho deciso di non venire a macerata di venire a Ancona allora che cosa l'ha insegnato un po' a questa trattativa ha insegnato che lo sport dobbiamo permetterci quello che possiamo permetterci noi non ci possiamo permettere la serie C perché la serie C costa più di 2 milioni che dice 2 milioni e mezzi che 2 milioni e 4 che 2 milioni e 2 comunque è una cifra che in macerata non si può permettere macerata macerata sta in promozione domenica sono andato a avere la partita c'è stato del tifo ma del tifo contenuto lo sport deve essere l'insegnamento quindi benvenga che ci assorra lo sport e il pallone e macerata però io quello che dico tanto lo dico da la vita da quando mi volevano fare fare non a macerata ma su altre città il presidente della squadra ha detto io lo faccio il presidente della squadra il pallone però a fine partita dobbiamo andare a mangiare tutti insieme e fare una porchetta una merenda una merenda dice non si può fare non si può fare e allora non è lo sport che piace a me comunque ritornando al pallone noi ci possiamo permettere di categorie stiamo in promozione possiamo arrivare in serie D se troviamo degli imprenditori che mettono i soldi perché più della serie D è difficile permettersi a macerata che vuol dire fare la serie D tra Cina e tutti gli altri giovani che partono dagli 5 anni avvicinarsi allo sport del pallone ma non deve essere solo il pallone noi abbiamo la pallavolo e abbiamo tutti gli altri sport il baseball l'atretica quindi lo sport serve a portare via i ragazzi da altri problemi se fanno sport e studiano altre idee mazzane sulla testa non girano ma come lo sport potrebbe essere musica cultura tutto quello che ti pare teatro perché non deve essere solo lo sport agonistico agonistico lo sport fisico a proposito del derby l'abbiamo visto in tribuna insieme al sindaco Ciarabica si parla un po' di derby anche per le prossime elezioni provinciali il 18 dicembre le elezioni che vediamo la carica di presidente lei più volte dicendo che vorrebbe veramente unire tutto il territorio provinciale vorrebbe anche fare quindi un po' essere il sindaco della provincia quindi un po' il presidente della provincia è vero o no? io quando mi sono candidato ho detto non per la provincia non nel senso della provincia ho detto che un sindaco del capoluogo deve essere un sindaco della provincia quindi devo unire tutta la provincia perché noi qua abbiamo Cosmari il discorso delle acque a futuro lato abbiamo tanti interessi comuni e il sindaco del capoluogo deve essere un sindaco che unisce che parla con tutti i sindaci siamo 55 sindaci tanti hanno dei problemi altri hanno altri problemi uniti possiamo far diventare questo territorio come era una volta perché una volta le Marche era una tra le prime regioni d'Italia adesso mi dico che è il terzo ultimo posto non può essere che le Marche in economia in tutto quindi le Marche devono ritornare a essere una città attraente per tutta l'Europa perché è così abbiamo un artigianato favoloso abbiamo un territorio se noi andiamo in cima al campanile lì del comune della piazza bisogna attaccarsi con la cordicella perché quando giri intorno ti prende il giramento di testa perché perché vedi dal mare dal monte conor al monte al monte vettore vedi tutto quindi tutte le colline nostre abbiamo un territorio magnifico ma non è solo il territorio che vedi agli occhi ma quello che c'è dentro perché abbiamo una cultura dentro un'arte magnifica abbiamo arte territorio vino ortaggi cioè l'agricoltura quindi c'è questa volontà o no incalzo sul fatto se ma io non mi guarda però se si sente di fare anche dal punto dal punto vista di unire tutto il territorio tutto quanto io parlo con tutti i sindaci e il suo amico di tutti i sindaci destra o sinistra dal punto vista politico decideranno che vorranno fare il presidente di questa provincia io mi candido o non mi candido io sto bene come sto non è che posso fare tutto e tutto certo chi vedrebbe bene se non lei io la vedrei un sindaco che parla con tutti gli altri sindaci che è umanamente una persona a modo trovato questo per me non mi viene qualsiasi fino all'altro giorno c'era anche le elezioni qui nella provincia adesso tocca la mettere in mano perché la provincia è stata è stati elevati tanti poteri però ancora ce n'era tanti parliamo di strade parliamo di di scuole parliamo di palazzi a macerata quasi tutti nella provincia per i più grandi un altro aspetto l'emergenza sanitaria abbiamo già parlato in passato di questa figura che le ha scelto il dottor Ripa come referente quindi un anno di attività amministrativa che cosa può dire su come la pandemia è stata gestita anche qui nel territorio e che cosa ci attende ora allora io ho dato la delega alla sanità al dottor Ripa perché è un dottore dell'ospedale di medicina quindi ha le competenze dovevo scegliere sul mio consigliere e il dottor Ripa aveva le caratteristiche per farlo ed è stata una bella dedica se noi parliamo del centro vaccinale se noi parliamo dei vaccini pensate che l'anno scorso il centro vaccinale doveva essere quello dell'oratorio della chiesa quella sopra al tribunale ma mi avevano detto tramite l'us che facevano 200 250 è stata la prima sede provvisoria ma era 250 300 posti io i primi giorni di guida settimana sono andato lì ho visto che non poteva essere quel posto perché la mattina era pieno di persone anziane perché la persona anziana anche se gli dai alle 11 di venire ti viene alle 8 perché è così quando uno viene anziano è così anticipa sempre quello che deve fare però arrivato tutte le 8 era un macello e non erano 250 dovevamo pensare e dovevamo fare tanti più vaccini voi pensate che su quello che abbiamo fatto giù a piedi ripa siamo arrivati a fare anche 1200 vaccini al giorno l'altro problema era il quartiere i posti macchina e io ho fatto il conto 8-12 ore gli servivano 25 posti macchina dall'APM mi sono fatto dare 25 posti liberi non a pagamento per poter fare per poter scusate un po' di raffreddore per fare diciamo per fare posteggiare a queste persone che arrivavano che arrivavano che è successo che vedevo che non poteva essere allora ho cominciato a pensare che possiamo fare una tenza struttura e dove la possiamo fare e sono andato a vedere a piedi ripa le racconto la storia ecco sì eravamo presenti il generale Figliolo poi a parte l'inaugurazione è stato allora sono andato a vedere a piedi ripa per vedere devo mettere questa tenna ma un attenzio struttura costava 120 mila euro chi militava 120 mila euro l'asla non tirava fuori i soldi la regione non tirava fuori i soldi il comune non c'era i soldi poi ho trovato questo capannone passando io guarda un po' bel capannone ma di chi è era dei unicredit e leasing che era un capannone all'asta ho chiesto unicredit in due settimane abbiamo fatto l'accordo con i credit e leasing che ce l'ha dato gratis poi devo ringraziare la lube che ci ha dato dell'arredamento dentro quindi vede un sindaco deve parlare con gli imprenditori della zona io ho parlato con la lube la lube era andata via da macerata in mano e moto io ho riagganciato la lube in giulianelli che gli devo dire grazie per quello che ci ha aiutato sul centro vaccinale e la fondazione è la banca di macchina della dottoressa del balzo che ci ha dato anche dei soldi per perfezionare quindi questo centro vaccinale è nato comune e imprenditori poi è entrata l'asle ma è entrata l'asle con tutto fatto e abbiamo fatto 1200 vaccini con i parcheggi fuori e roba del genere ce l'ho fino a fine anno e stiamo vedendo di prolungare che altrimenti vediamo l'esigenza vediamo l'andamento però quello è stato un grande successo poi dopo lì il mio delegato dottor Riva ci ha messo anche il suo voglio dire l'esperienza vaccinale poi in questi giorni lo ricordiamo anche con il camper dell'asolo con la possibilità anche in centro e quindi all'interno degli antichi forni di avere un ulteriore hub vaccinale per gli studenti per chi magari qui per lavoro la prima tappa insomma sembra aver funzionato bisogna farlo conoscere e lì è una bella cosa perché intanto dobbiamo vaccinarci tutti quindi aiutare queste vaccinazioni nella piazza con i studenti e con chi anche qualche persona anziana che un po' andava a piedi riba va bene emergenza sanitaria quindi un po' abbiamo accennato invece volevo parlare di un altro aspetto a livello di politiche sociali questo anche episodio che ha un po' colpito la città di Macerata tutta dal punto di vista cioè umano e anche di emergenza sociale forse di anche realtà che sono magari nella porta accanto e che non conosciamo lei insomma che cosa si è chiesto che risposte vorrebbe dare che magari in questo episodio allora ha messo la luce che che sta cambiando stiamo cambiando che prima avevamo le porte aperte conoscevamo quello vicino a casa vivevamo più insieme adesso c'è anche un isolamento quando le persone si isolano se non hanno dei parenti scompargono dalla comunità e tu non sai chi sono purtroppo non sai chi sono te ne accorgi quando succede quello che è successo io penso che ti stai dicendo quel fatto bravissimo che sapremo adesso dopo l'8 dicembre quello che è successo perché ancora non lo sappiamo è logico che per me è stata una cortellata perché anche se non sei indirettamente responsabile ti senti sempre responsabile perché siamo tutti responsabili quindi a livello ecco di rete sociale come politiche sociali di assistenza emerge il covid ha messo anche in evidenza l'esigenza di un'assistenza socio-sanitaria anche differente più capillare sul territorio oltre a maria a delle eccellenze qui poi mi aggancio anche alla questione dell'ospedale e questo potrebbe essere purtroppo un episodio da cui trarre però noi abbiamo i servizi sociali al di là della teoria di poter fare qualcosa in più in concreto noi abbiamo i servizi sociali che funzionano e abbiamo trovato tanti soldi per aiutare tutte queste persone che col covid hanno bisogno abbiamo fatto il cuore grande di Macerata una bellissima cosa dove io ho trovato tanti fondi anche io stesso ho messo dei fondi dentro il cuore grande di Macerata perché è una cosa bella abbiamo trovato tanti soldi per i pacchi per mangiare dobbiamo i servizi sociali allora la spesa che il comune ha dei servizi sociali è la più importante a volte però quando si parla di queste questioni si pensa le risorse ci sono o meno a volte non è solo una questione di risorse magari l'esempio anche che ha fatto del centro vaccinale il tempo il modo come è stato allestito come le persone hanno risposto quindi forse anche in questo caso al di là se ci sono i soldi o meno se funzionano i servizi forse serve anche dell'altro anche da un punto di vista proprio di apertura forse anche umana umano serve tanto umano parliamo dell'ospedale l'ospedale di Macerata il nuovo nuovo ospedale di Macerata bisogna che ci sia perché il nostro ospedale è vecchio ma ancora è tutto un po' in alto mare non è in alto mare anche ieri stavo in regione ho parlato con l'assessore Valdelli e l'assessore Santomartino che sono i due assessori in riferimento alla regione per l'ospedale il progetto sta andando avanti a luglio di quest'anno è stato fatto il master plan per le opere degli ospedali la location è quella lì devono mettersi d'accordo con la terra il progetto lo farà la regione l'Asle e la regione io parlo di regione Asle insieme e andiamo avanti su questo progetto sarà il nuovo ospedale di Macerata un ospedale di un livello cioè l'acquisizione del terreno c'erano stati dei problemi è stata completata parliamo del terreno il terreno aveva scelto l'altra amministrazione che ha perso due anni era un terreno dove sotto c'era la discarica non si può fare l'ospedale sotto c'era la discarica ma lo sapevano tutti che c'era la discarica poi che hanno fatto hanno spostato sul terreno nuovo però non facendo un compromesso e l'hanno passato a area per fare ospedali o cliniche private sempre sempre sul settore medicale però senza fare un compromesso con il proprietario il prezzo è schizzato in alto però c'è stato anche lo stesso discorso a fermo il prezzo del terreno è un bel prezzo adesso deve trattarlo non lo può fare il comune non ha competenze sull'ospedale di prendere il terreno di fare lì il comune vorrebbe avere questa competenza a me piacerebbe ah guardate io ho passato nove giorni in ospedale per una infiammazione che ho avuto alle vertebre del collo ho visto la grande professionalità che c'è dentro l'ospedale noi abbiamo dei medici degli infermieri dei tecnici ospedalieri bravissimi allora che vorrei fare io quando disegneremo il nuovo ospedale vorrei disegnare l'interno con loro perché loro vivono dentro l'ospedale non deve farlo un architetto quello mi piacerebbe organizzarlo con l'asle con la regione e con il comune il livello di qualità dell'ospedale all'interno poi i parcheggi tutta quella roba lì ben venga però bisogna disegnare un ospedale dove questi medici che sono professionisti e sono bravi lavorano bene se lo merita sta andando avanti quindi con quali tempi ma brevi anche ieri ho avuto la certezza che i tempi sono brevi quindi l'ospedale si farà sta dentro il master plan ormai non si torna più indietro non mi devo incatenare non c'ho più bisogno e in generale ecco come dicevo prima collegando anche a questa questione quindi un ospedale di macerata che sarà un'eccellenza rispetto a quale altra rete sanitaria la rete rimane camerino rimane camerino io dico hanno fatto al camerino e l'intorno perché io indirettamente ho anche la residenza da su ho visto dei fogli anche il paesino mia di firmare per non la chiusura di camerino ma chi lo vuole chiude il camerino io ho detto ma vabbè il camerino a mia si chiude camerino si specializzerà su dei settori c'è avrà il punto seccorso è sempre un ospedale dentro il terremoto che chiudiamo camerino Civitanova non si chiude ma addirittura anche a San Severino c'è avrà qualcosa quindi l'ospedale non è unico ma è un nuovo ospedale di macerata che a differenza da quello ancona avrà 4-5 settori ospedalieri di meno ma non molti di meno quindi un bel ospedale e mi allaccio come ho fatto un po' questa carrellata tra delle e gli assessori andando all'urbanistica un po' l'assessore quello più esperto ho sette foglie sull'urbanistica all'interno della giunta ecco tanti in particolare questo qui il bando del Pinqua programma innovativo nazionale qualità dell'abitare abbiamo preso quei soldi per fare tutto quello tra gli obiettivi leggo quindi anche la riqualificazione e l'organizzazione del patrimonio destinato all'edilizia essenziale sociale e quindi abbiamo cambiato il bonus facciata abbiamo potuto fare cambiandolo che tanti possono accedere a questi fondi quindi anche lì abbiamo messo le mani è molto importante queste cose poi il Pinqua ci è arrivato i soldi ma abbiamo un altro progetto che vedremo di prendere dei 20 milioni che c'è una riqualificazione anche dello stadio cioè qui con il Pinqua riqualificiamo tutto il fonte Scodella allora qui c'è da fare la riqualificazione di tante aree in Macerata trovando questi soldi poi c'è da investire questi soldi facendo progetti che portano tanti giovani a vivere e venire a lavorare a Macerata e tanti anche turisti a venire a Macerata i giovani che vengono a Macerata che fanno dell'attività qui daranno al comune domani facendo l'azienda creando del lavoro a Bergen dei contributi dei soldi quindi investiamo sul futuro in Macerata tutte le persone che verranno ai musei Macerata che io non penso solo al museo del Buonaccorsi io sto ideando un sistema museale a Macerata all'avanguardia se non vi dico il progetto è ciò ma se questo progetto qui non portiamo 25 persone portiamo 200.000 a Macerata e questi portano ricchezza se noi non investiamo questi soldi che arrivano dall'Europa oggi per creare ricchezza per Macerata domani questi soldi non ci saranno più e quindi potremo fare poche manutenzioni potremo fare invece se entrano i soldi possiamo fare un sacco di cose nel sociale specialmente ma in tutte quelle altre e dall'urbanistica lavori pubblici comunque altri grandi cantieri abbiamo detto già avete trovato proprio esempio il centro fiere di Villa Potenza il centro fiere di Villa Potenza l'aveva fatto la scorsa amministrazione e io gli dico grazie di averlo fatto quindi c'è un colloquio anche con la vecchia non dico che è sbagliato e devo chiuderlo no lo voglio il centro fiere ma il centro fiere oggi le fiere non è facile a mandarle avanti non è le fiere di una volta che dove faceva la fiera noi abbiamo delle chicche su questa fiera ma io ho già avuto tante richieste da tanti imprenditori che vorrebbero fare fiere a 360 gradi non so quella dei bovini possiamo fare me vengo a trovare per i cavalli per fare le altre giorni per i cavalli ma c'è tanti che vorrebbero fare delle fiere quindi avere un po' polo fiere importante con la strada che arriva perché parliamo anche delle strade che devono arrivare lì adesso vi racconto quello che sta succedendo e quello lì è una chicca per macerata ma laggiù allora noi dobbiamo riqualificare tutti i nostri quartieri periferici se vogliamo dare una visione a Villa Potenza e il centro fiera vogliamo dargli anche un'altra visione che io ho palazzetto allo sport campo da Rebbi che non c'è eccolo palazzetto allo sport e dove? laggiù per me laggiù da fare a Villa Potenza in attesa anche della strada promessa anche dalla regione ma la strada c'è allora parliamo di strade la strada per andare a Villa Potenza sono arrivati 4 milioni e 300 mila euro mi pare circa per fare la vecchia strada quella che c'è adesso però io quella la considero come una strada comunale quindi benvenga questi soldi e io li devo spendere lì quindi non li butto via di sicuro quindi li spendo lì allergheremo quella strada faremo tutto ma c'è un progetto a regione io mi hanno stanziato e so che me l'hanno stanziati che c'è un progetto di andare giù direttamente fino al Ponte Viaggo di Villa Potenza una strada più seria scorrimento veloce che dalla galleria che va giù invece dopo di passare su quella andiamo giù adesso c'è un progetto anche lì e quella è la strada che ci porta verso la regina perché è un altro progetto che sta facendo la regione ma c'è c'è anche quello vedremo quest'anno un altro trascorso veloce penso insomma successivi però se dico questo perché sono sicuro che mi stanno stanziando quei soldi in regione quindi avremo la strada che va a Villa Potenza e la strada che va verso la regina perché anche la regione mi dice che vuole fare il casello nuovo laggiù da piedi alla regina quello che serve non è che arrivo alla regina potevo passare tutto Porto Recanati per andare a prendere l'autostrada quindi e poi se l'allargeranno questa regina questa strada che viene su non è competenza mia ma è competenza mia della Cambugiano Pieve e Mattei per arrivare giù a Villa Potenza che sia una strada a scorrimento veloce quest'altro 4 milioni e 3 che mi è arrivati servirà a migliorare la viabilità di quello che c'è quindi la strada c'è quindi Villa Potenza poi in Villa Potenza abbiamo anche il teatro favoloso quello non lo riqualifichiamo non lo digitalizziamo tutto che stiamo a fare quello non è non ci può stare solo i serpenti bisogna farci spettacoli e riportarlo allo splendore che era macerata e nata lì un'altra domanda e qui vado un po' anche sulle delle delle dell'assessore parliamo del passaggio a livello sì anche anche quello ieri io parlavo con Castelli mi serve determinati soldi ancora per farlo perché è un progetto serio non è il progetto che era di prima è un progetto dove passano anche i cami sotto quindi serve 4 milioni e passa e mi manca un milione e mezzo che io sto trovando complicato quello lì insomma è un altro segnale importante è un altro modo storico che è macerata non è riuscita a sciogliere una volta che c'è la strada una volta che c'è la strada così quello passaggio a livello calerà di traffico però è sempre importante poi specialmente quando una mattina si blocca il passaggio a livello che c'è un'ora di fila non esiste infatti quindi in attesa di vedere poi l'avvio dei cantieri ad oggi al di là dell'impegno rimangono ancora delle promesse la macchetta magica non ce l'ho in un anno però questi progetti che sto portando avanti per me sono realizzabili ecco quindi dalla strada anche al passaggio a livello invece alle ciclovie petonali si parla continuamente insomma tutti intanto c'è questo entusiasmo di voler andare in bicicletta onestamente credo che Macerata per la quotidianità non sia la città ideale per poter andare in bicicletta nella quotidianità allora se parliamo di Macerata a Macerata le do ragione ma se parliamo delle due valli Potenza lì lungo i fiumi con le abazie che abbiamo e lì è un altro aspetto ci sono arrivati sul CIS ci sono arrivati 3 milioni ma avevamo fatti 3 progetti sul CIS avevamo presentato 3 progetti vi faccio sapere avevamo presentato il suo pensiero su quale utilizzo può avere andare a Macerata alla bicicletta fino a che punto può essere stata per la città oppure invece come percorso negli intorni di Macerata tra le frazioni o quant'altro potrebbe avere di andare alle bazzie alle città che sono poi i percorsi di ciclovie famiglie non è che dobbiamo andare tutti l'estate al mare possiamo fare anche lungo i due fiumi ma poi non è solo l'estate in autunno quando vuoi bisogna fare dei percorsi interessanti dove c'è delle aree picnic dove ci possiamo fermare che abbiamo il ristorantino dove abbiamo la visita quindi con dei percorsi non delle zone 30 ma guarda che mi pare di chilometri di questa città è 70-80 km quindi qui intorno ma di città potrebbe essere che arriviamo con gli altri paesi arriviamo anche su nell'interno però l'idea di aumentare il tipo delle aree dove si va a 30 km per poter avere la possibilità di andare in bicicletta cosa vede fattibile questo a Macerata Macerata Centro la vedo difficile Macerata Periferia con il passaggio delle varie due valli sì perché adesso ci sono arrivati questi 3 milioni per fare questi 5 milioni ma lì erano 3 progetti che avevamo presentati il problema dove è stato che il CIS ha avuto 90 milioni in disposizione e sono arrivati in regione 900 milioni di progetti qualcosa doveva essere tagliato noi avevamo inserito anche un'altra chicca che io voglio fare l'ortofrutta il discorso dell'ortofrutta laggiù l'avevamo inserito lì e non c'è passato purtroppo perché non c'è stato i fondi ma lo stiamo rimettendo anche ieri ho parlato con l'assessore Carloni che si occupa dell'agricoltura e tutto quanto e ha detto guarda c'è un progetto magnifico perché anche lì è una cosa bellissima voi pensate che tanti ragazzi si stanno mettendo vicino all'agricoltura stanno investendo vicino all'agricoltura invece un polo che non c'è nella provincia non esiste un polo di agricoltura come l'abbiamo noi ma come l'abbiamo noi adesso c'è da chiudersi gli occhi ma il progetto se ti faccio vedere il progetto che ho è una cosa c'è già il progetto una cosa magnifica quindi se la facciamo fare l'ortofrutta e poi magari quello vecchio lì che abbiamo già il terreno per farlo e su quello vecchio possiamo buttarlo giù perché c'è da buttarlo giù quello lì e fare anche una linea di freddo e roba del genere diventa con le strade che abbiamo perché guarda che arrivare da Foligno ci vuole mezz'ora guardate che adesso c'è la peda montata che arriva da Fabriano che arriva la Muccia cioè saremo collegati bene quindi avere un ortofrutta lì vuol dire parecchi parecchi imprenditori agricoli che vengono a esponere i loro prodotti su un mercato che diventerà un mercato molto importante per tutta la regione viaggiamo un po' alto se no che senso c'è e anche lì sto trovando i soldi cioè io non dico che li faccio sto trovando i soldi per fare però ho un progetto le risorse esatto se non c'è allora prima di tutto mi accusano quella dei sogni ok se non hai i sogni nel cassetto non li tiri fuori e progetti una volta che ho tirato fuori e progetto dopo c'è da trovare i soldi col progetto ma se non c'è il sogno e un progetto e trovi i soldi non lo fai un altro aspetto abbastanza al centro del dibattito da sempre della città di Macerata che è anche un'opportunità la movita del giovedì cosa pensa il sindaco Caroli come penso e come avete anche affrontato in questo anno insomma tra le basse decisioni le restrizioni covid allora la situazione della movita guarda a me mi sono venuti a trovare gli abitanti della città mi sono venuti a trovare tutti i commercianti bisogna trovare un giusto equilibrio perché la movita allora la movita seria è accettabile perché abbiamo dei ragazzi giovani che devono vivere poi parliamoci chiaro Macerata che locali c'è per chiuderti dentro non c'è un locale quindi la movita è per le vie non c'è altro motivo non è che c'è discoteche o c'è altre cose non c'è Macerata non c'è solo guarda io abito al centro fino alle 2 ci sono tantissimi ragazzi dopo di che rimangono quei ragazzi che non meritano di essere ragazzi e faremo via perché se io trovo 10-20 ragazzi che mi arrovinano questa movita che rovinano così e quelli da controllare poi giovedì scorso io sono andato anche con le forze abbiamo trovato anche delle persone che spacciavano quindi il controllo dello spaccio ci deve essere il controllo delle telecamere che questi fanno noi metteremo più telecamere infatti le volevo chiedere sulla sicurezza noi noi metteremo telecamere adesso abbiamo altri soldi abbiamo chiesto per altri 100 telecamere metteremo le telecamere dappertutto anche il Presidente il Consiglio Luciani parlava di questa sinergia anche con l'assessore Renna per lavorare l'assessore Renna sta facendo un bel lavoro per la sicurezza poi parliamo con le forze della polizia con la finanza con tutti e il giovedì scorso sotto una via di macerata mi sono trovato lì avevo 4 della polizia municipale avevo altri 4 della polizia e 4 carabinieri erano 12 persone a controllare più io che non c'entravo che faceva lì il suo professore e abbiamo trovato delle persone che spacciavano quindi il controllo ci deve essere però non possiamo bloccare questi ragazzi nella movia del giovedì sera io non li blocco perché siamo stati tutti giovani e dobbiamo però nello stesso tempo devono essere corretti aumentare controlli regole insomma poi ci sono delle cose che non vanno bene e ci hanno ragione e gli abitanti del centro e lì interverremo siamo verso la conclusione dunque prima avevamo parlato anche del bilancio di un anno ma anche in attesa del bilancio al di là di quello che avete già trovato come situazione che cosa ci puoi dire? guardi noi abbiamo rivisto un po' tutte le voci del bilancio perché il bilancio è positivo abbiamo tratto un bilancio serio è logico che abbiamo tante cause in corso che ci sono lasciate dall'altra che ci ritroviamo e stiamo sistemando l'altro giorno abbiamo sistemato una che era da 10 anni che c'era un importo anche di dare di più di 600 mila euro abbiamo concluso con 300 mila euro ma ci abbiamo dei contenziosi c'è via 30 c'è tante cose a sistemare vecchie però un bilancio ecco noi stiamo cercando di trarre sempre un bilancio positivo è logico che ci servono sempre soldi ci servono soldi per il sociale soldi per la manutenzione soldi per qua però il bilancio deve essere una cosa seria quindi un accordo con revisione una collaborazione con i revisori che prima non c'era adesso noi l'ultimo anno l'abbiamo avuto abbiamo adesso rimesso i revisori stiamo facendo i nuovi perché era scaduto il collegio dei revisori e noi dobbiamo collaborare con tutti quindi dobbiamo fare una cosa seria e vedere le voci del bilancio e aggiustarle e cambiare diciamo la spesa sulle varie voci per portare sempre un bilancio propositivo accettato anche dai revisori e chiudiamo ecco con lo sport abbiamo accennato prima macerata città europea dello sport 2022 che altra opportunità sarà tra i denti eventi tra insomma anche il turismo ma c'è tanti eventi che anche culturali perché sport e cultura quindi e ne abbiamo fatti tanti quest'anno guarda abbiamo chiuso abbiamo chiuso i primi ottobri è stato un successo anche lì e quest'anno dei spettacoli ce ne sono stati tantissimi considerando anche il covid quindi sta una bella stagione per me lo sferisterio da giugno con comunicicoltura è partito e finito verso i primi ottobri quindi concludendo a distanza di un anno dal suo mandato che cosa può dire di aver capito di più della macchina amministrativa che all'inizio da New England mi dicono opposizione che io non so non ci ho capito niente del comune non sono amministratore non sono lì sto imparando vi dico anche che cosa hai imparato in questo anno vi dico l'opposizione che io mi sento non ho fatto niente però se guardiamo le cose che mi sono scritto e quello che abbiamo fatto sono 20 pagine quindi che cosa avremmo fatto però io come imprenditore mi sento ancora non ho fatto niente perché ho tante cose da fare poi lo vedremo vedremo se staranno zitti nel proseguo quando gli presenteremo i progetti e li abbiamo fatti oppure non gliela farò e ci hanno giusto a dimmi che non sono bravo però aspettate un po' pure non è che ho la bacchetta magica io grazie davvero per questa intervista al sindaco di Macerata Sandro Parcaroli grazie a voi grazie a voi che ci avete e viva Macerata buon proseguimento che non ci vediamo ciao a tutti